Oggi vediamo un'altra arma in ritorno da Borderlands 2 e in versione probabilmente migliorata Sto parlando del Flakker, è abbastanza famoso no? Direi di sì Quindi lo potrete ottenere andando a sconfiggere uomo teropo a Corazold Lo potrete trovare qui segnato sulla mappa con un segnalino nero Ma quindi cosa fa il Flakker è effettivamente buono? Il Flakker come vedete rispetto a Borderlands 2 ha molte ma molte ma molte più munizioni E il funzionamento è molto semplice Spara un proiettile invisibile che va a proseguire il suo percorso E dopo una certa distanza esplode creando tutta questa enorme zona di esplosione intorno a noi Il Flakker ha due punti deboli praticamente diciamo Adesso fatemi tirare su con un'arma un pochino più potente perché altrimenti non ce la farò mai spiegarvi Il primo punto debole è che il proiettile può rimbalzare Quindi se io lo sparo verso il basso qua Vedete che è l'avanti l'esplosione, non è di fronte a me Se io la sparo contro un muro L'esplosione è dietro di me Se la sparo contro qua, l'esplosione sarà là dietro, eccetera Quindi se lo sparate addosso a un nemico Non è detto che l'esplosione vada dove volete voi Il secondo lato negativo è che se sparate mentre correte in avanti Se magari il signor pazzo me ne desse una possibilità di spiegarlo Gentilissimo Se sparate e correte in avanti Rischiate di finirci in mezzo Ora, io ho l'abilità che va a aumentare la velocità dei proiettili Quindi va abbastanza avanti da non farmi colpire Ma normalmente è giusto giusto Per permettervi di passarci in mezzo e farvi buttare a terra Non è una cosa che consiglio Questa cosa non è ovviamente cambiata neanche rispetto a Borderlands 2 La differenza è l'enorme caricatore Per quanto riguarda i danni in modalità story, modalità normale, eccetera Possono essere decenti Con mose possono essere decenti, come state vedendo Però non è una roba d'endgame Già Amara fa fatica a sfruttarlo bene in endgame Flak e Zane non possono proprio utilizzarlo E quindi in quel caso non vi consiglio di utilizzarlo Il testo rosso del Flakker che si chiama Spara al Mondo Viene dalla reference, diciamo, di Battlestar Galactica Dove era Prack the world Era E Flakker Flak frack Diciamo è un gioco di parole Con l'italiano purtroppo si perde Non si capisce quasi Però Apprezzo perché Battlestar Galactica è stato Una mia grande passione anni e anni fa Detto ciò Usate questo shotgun se volete qualcosa che faccia più danno E non vi abbatta continuamente E non vi abbatta continuamente E non vi abbatta continuamente